eccoci di nuovo siamo sul nostro dormitorio adesso vi insegnerò con la famosa penna maker maker pen a cancellare anche delle cose quindi adesso andiamo sul come si chiama uno che permetteva di equipaggiarci andiamo pick up la penna e vedete se l'abbiamo in mano allora quando abbiamo in mano la penna possiamo fare f f è un'attività che si fa normalmente in rec room quindi equivale a azione insomma sempre nella modalità desktop se facciamo f comparano tutte le possibilità della penna e a noi interessa adesso ne guardiamo un pochino per volta ma soltanto le principale quelle che ci interessano e guardiamo quella che è delete delete permette di togliere degli oggetti facciamo di nuovo f vedete che quando andiamo sul sulla scrittina che abbiamo fatto viene evidenziato in rosso rosso vuol dire che sto per cancellare vedete che qui in basso proprio dove c'è la pistola qua c'è una x su un oggetto su un cubo che vuol dire se io mentre rosso faccio clic sinistro elimino la mia cosa ora se io faccio f vedete che qui in fondo c'è un lando delete object vuol dire che se per caso avete sbagliato e avete cliccato una cosa sbagliata o mosso una cosa sbagliata potete sempre fare lando quindi faccio lando e torna l'oggetto e quindi non 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 potete diciamo fare degli errori o comunque diventa molto più difficile allora noi lo ri cancelliamo e ora andiamo invece a creare effettivamente una stanza nostra quindi andiamo in create e facendo create cosa succede che noi possiamo usare delle stanze pre confezionate come partenza per fare il nostro diciamo le nostre creazioni ora queste stanze sono tutte più o meno piene io direi che passiamo magari da una stanza abbastanza grossa con poche robe dentro che è la maker room che è quella che ci permette di di avere un pochino di spazio per fare le nostre le nostre prove quindi facciamo questa stanza qua la facciamo edu3d maker facciamo create e viene creata questa stanza questa stanza adesso lasciamo il dormitorio senza salvare se abbiamo fatto delle modifiche vi ricordate che queste modifiche non salvate ogni tanto ma se ma non tutti i secondi per poter andare veloci quindi noi diciamo yes perché non abbiamo modifiche e comunque se le modifiche fatte non sono particolarmente interessanti allora edu3d maker e vedete che noi siamo entrati nella stanza questa adesso vedete che ho abbassato il volume della signorina perché tanto parla inglese e ci dà quasi fastidio questa stanza ha già delle robe dentro quindi vedete che c'è degli oggetti questi oggetti sono già degli integrati quindi questi non so ancora cosa significano noi possiamo muoverci ecco qui tra l'altro se facciamo tab 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 no allora dovremmo fare facciamo z saltiamo la la nostra pistola insomma la penna facciamo tab tab e dovrebbe no allora il volo non è consentito vabbè ma tanto non è importantissimo mettiamo magari in un secondo momento prendiamo la pistola e abbiamo visto che la pistola possiamo disegnare con questo signore qua però possiamo disegnare tante cosette in realtà facendo f noi siamo in modalità normalmente create la modalità create ci permette di fare quelle figurine ma se noi apriamo la paletta open palette la paletta e qui abbiamo il primo difetto che abbiamo qua che non sempre funziona in modalità desktop nel senso che ci dice cos'è ma non ci consente di usarlo allora qui io ho visto che butto e poi faccio uno insomma faccio un po' di riti voodoo come si diceva una volta quindi prendo questo e riprovo con f e vado a vedere ecco vedete che facendo buttando la penna riprendendola eccetera dopo un po' si resisteva e noi siamo vedete qui nella nostra menu paletta che ci permette di costruire allora vedete che adesso qui dentro noi abbiamo 0,01% già pieno allora quando raggiungiamo il 100% non possiamo più fare niente quindi l'unità di misura qua dentro è la percentuale di inchiostro che va da 0 a 1 allora noi adesso stiamo disegnando col tubo ma forse conviene disegnare dei cubi che sono le cose che ci interessano quindi andiamo qua sotto dove c'è il nome cubo e poi facciamo questo punto f per tornare qua e vedete che abbiamo il simboletto del cubo se lo possiamo praticamente girare adesso questo è molto più facile da fare in vr ma comunque si può fare anche qua quindi abbiamo il cubo però il cubo come vedete è un po' tutto storto quindi prima di tutto facciamo una piccola cosa lo cancelliamo quindi andiamo qua ho premuto f poi premuto delete poi premo questo per cancellarlo quando premo f vedete che c'è lo snapping allora lo snapping io direi lo facciamo lo snapping alla grid che è la cosa che permette di poter fare le cose un po' tutte allineate in più ho bisogno di vedere come è fatta sta grid quindi vado qui sulle configurazioni quindi su questo ingrenaggio e vedete che abbiamo il position snap adesso lo snap è a mezzo metro vuol dire che posso mettere solo cose a mezzo metro di distanza e la rotazione snap quindi noi abbiamo fatto il questo qui permette di avere delle cose perfette quindi mettiamolo grabbable object vuol dire che possiamo grabbare gli oggetti questo anche lo consiglio che quando muoviamo gli oggetti non si muovono non si ruotano che cosa molto interessante e poi qui c'è un enable self scaling che adesso non so perché non ve lo lasci fare ma comunque è sempre utile va bene allora prendiamo questa cosa qua quindi abbiamo un cubo quindi a questo punto se noi facciamo dunque dobbiamo fare create perché abbiamo create quindi se noi a questo punto essendo in create vedete che in fondo proprio sulla mia penna c'è il più più vuol dire create quindi se io clicco viene fuori un cubo innanzitutto come vedete è un cubo perfetto quindi il cubo l'abbiamo fatto e questo è il primo cubo se vogliamo fare un altro cubo lo facciamo qua vedete che è a mezzo metro anche lui e quindi possiamo fare altri cubi tutti dritti ora questi cubi possiamo muoverli quindi andiamo muoviamo il cubo F quando clicchiamo su un cubo vedete che compaiono le cosette che a noi piacciono tanto che sono queste che ci promettono di muoverlo nelle tre direzioni quindi possiamo metterlo di qua e di là ok quindi abbiamo praticamente il nostro cubo ah ho premuto control e mi sono accucciato per terra questo è interessante se vi capita così premete il nuovo control e non siete più accucciati vedete in alto a destra che siete accucciati questa è una modalità di gioco e permette di accucciarsi ok allora quindi l'abbiamo mosso perfetto e possiamo fare anche altre cose quindi possiamo fare la stessa cosa anche per gli altri cubi quindi spostiamo i cubi li mettiamo praticamente a distanze più o meno dove ci sembrano utili quindi vedete voi insomma quindi più o meno adesso sono allineati quindi li allineate a occhio tra l'altro se siete siete allineati alla griglia però avete la griglia allinea sì ma a 0,5 che è poco quindi se per caso vi sembra poco andate qua andate nella paletta e nel position snap fate magari uno snapping credo che sia in centimetri questo quindi facciamo a 10 centimetri 10 centimetri è già credo interessante perché vedete se è così quindi vedete che potete allineare abbastanza precisamente gli oggetti quindi è molto interessante tra l'altro è utile anche in fase di creazione perché così potete creare gli oggetti solo a 10 centimetri per volta quindi è più facile controllare le dimensioni adesso questi sono cubi ma potete fare rettangoli eccetera diamo brevemente altre cose che potete fare la rotazione che è la cosa più importante cioè una delle cose più importanti quindi selezionando un oggetto vi compare il classico la rotazione che vedete che gira praticamente di 30 gradi per volta se non volete girare i 30 gradi fate sempre qui no 15 gradi andiamo a 45 gradi per volta 45 gradi per volta direi che è l'ideale per vedete ok quindi potete metterlo diritto diagonale oppure laterale e questo è un altro modo per riuscire a evitare e tra l'altro diventa interessante in desktop mode perché vi permette di fare delle costruzioni abbastanza eleganti ora select invece è una cosa interessante quando avete il select vedete che ci sono i due i due quadrati potete selezionare con vedete che man mano c'è un pennello man mano che seleziono evidenzia le cose che seleziono e compare i puntini con i puntini li cliccate e potete selezionarli tutti tutti selezionati e c'è il modo che adesso non mi viene per per mergiarli assieme ma faremo in un'altra lezione evidentemente adesso in questo momento mi sfugge se no si passi proviamo con shift shift no con shift 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 ah aspetta shift ah li sono tutti selezionati center più select all li ho selezionati ok posso selezionarli e deselezionarli vabbè ma non quindi in pratica una volta selezionati in teoria potrei anche io volevo mergiarli insieme però probabilmente si possono muovere poi tutti assieme e vedete che selezionandoli li muovete tutti insieme buono vediamo ancora altre cosette la scale che permette di cambiare la scala dei singoli oggetti quindi prendiamo questo oggetto facciamo la scale vedete che quando c'è la scale possiamo fare in modo tale che lui scala da una direzione oppure l'altra e quindi potete fare l'altro vedete che è utilissimo sì quindi vedete che anche in realtà senza la VR riusciamo ancora a produrre qualche cosa e quindi per esempio così abbiamo costruito un tavolo quindi vedete che già così abbiamo già tutte le cose per poter lavorare altre cose su cui possiamo lavorare è il recolor per cambiare praticamente per ricolorare quando ricolorate attenzione che dunque la ricoloratura doveva avere i colori da qualche parte che non trovo andò manipolette shape eccetera quindi probabilmente mi aspettavo qua quindi sarà forse sulle shapes sì sono qua i materiali quindi sempre su questo menu che era quella paletta vedete che nel frattempo siamo andati su potete selezionare il colore di base quindi per esempio il yellow e poi il materiale che sono queste cose che non sono tantissime mi permettono già di questo qui il pavimento sono questo qui è il check dell'inoleum una volta fatto questo vedete che c'ho il sulla mia penna il il secchio e clicco e vedete che c'ho messo il questo materiale quindi posso colorare cambiare il materiale e vedete che ottengo degli effetti anche molto interessanti e senza neanche tanta fatica ora direi che per questo video che ah no poi ci sarebbe ancora allora lasciamo perdere altre cosette che servono dopo in teoria non credo ah il clone ecco facciamo il clone che è importante quindi se voi fate il clone potete F sempre abituati vedete che compaiono quando seleziono un oggetto quindi clicco sull'oggetto mi compare la possibilità di clonarlo sotto a fianco eccetera se lo clono sotto vedete che genera esattamente uno stack di oggetti questa è una cosa utilissima e se invece clicco qua dove c'è il quindi permette di fare facilmente degli stack che cosa che ritengo che in molti altri mondi virtuali non abbiamo la stessa flessibilità perché così possiamo costruire praticamente delle cataste eccetera se invece di cliccare qui dove c'è il più cliccate qua dove c'è questo simbolo viene replicato l'oggetto ma invertito invertito vuol dire che è simmetrico quindi ad esempio se era una porta che facevate e la duplicata dall'altra parte viene duplicata però girata a 180 gradi ok e poi tutti gli oggetti generati potete manipolarli come volete allora adesso questa cosa qua questa catasta insomma di legno che avete visto che ho fatto che in OpenSim o in Second Life non sarebbe stata così facile cioè si può fare ovviamente l'unica cosa è che le texture come avete visto sono solo limitate quindi potete cambiare i colori e i colori sono limitati le forme abbiamo visto che c'erano il cubo l'abbiamo visto possiamo fare ancora la sfera potete fare il do not che sarebbe questa ciambella il pipe sarebbe un tubo il cono non c'è granché ci saranno poi lo vediamo in altri video i gadgets le props e le inventions che vedremo poi meglio in un'altra occasione direi che per adesso è tutto